Ripartono i lavori sulla A14. Da oggi è ripreso a pieno regime il piano di ammodernamento della rete avviato da Autostrade per l'Italia, tra Val Vibrata e Pescara Sud, stoppato nel mese di luglio per agevolare gli spostamenti verso le località turistiche. Interventi che, come facilmente prevedibile, porteranno non pochi disagi agli automobilisti e agli autotrasportatori. A proposito, William Facchinetti, coordinatore FITA-CNA, annuncia che i lavori saranno eseguiti sette giorni su sette e, tranne le festività, proseguiranno almeno fino a marzo 2022. Dieci nuovi cantieri avviati oltre tre già in esecuzione. Secondo Aspi, si potrebbero raggiungere code di 12 chilometri. I cantieri sono partiti da stamattina, così come era stato previsto dal piano dei lavori di Autostrade per l'Italia. Tra l'altro ci risultano già delle code. Sono i lavori che si erano interrotti per la pausa estiva. Però purtroppo oggi ci troviamo a fare i conti con quelli che erano i problemi che avevamo prima, ma a cui si aggiungono anche ulteriori cantieri che sono, per fortuna, per la sostituzione delle barriere bordo-ponte che erano state oggetto di sequestro da parte della procura di Avellino e che avevano creato tutti quei disagi che ben ricordiamolo con la chiusura del ponte del viadotto Cerrano ai mezzi pesanti e con il conseguente congestionamento della statale 16 adriatica. Sono lavori che sono inevitabili, improcrastinabili. Tra l'altro, secondo noi, andavano fatti prima, ma ormai è inutile piangere sul latte versato. Per cui noi chiediamo che ci sia un confronto continuo con le associazioni degli autotrasportatori all'interno di questi tavoli per la viabilità. Lavori che dureranno quanto? Dalle notizie di nostro possesso i lavori dureranno tutti i giorni H24. I lavori sono previsti con delle pause in prossimità delle principali festività, come il Ponte dei Santi, piuttosto che le festività natalizie. La fine dei lavori è prevista per marzo 2022, ma già sappiamo che comunque dopo partiranno ulteriori lotti di lavoro, per cui crediamo che sia veramente un'emergenza nazionale. Non solo lavori sull'autostrada, benvengano i cantieri anche sulle strade statali ed altre arterie, ma magari non tutti in contemporanea. Sì, questo è un appello accorato che rivolgiamo a tutte le istituzioni che si trovano coinvolte in questa situazione, che si eviti di sviluppare cantieri in maniera contemporanea. Cioè se noi sappiamo, e lo sappiamo, che sull'autostrada A14 sono in corso i lavori ed è inevitabile che degli autotrasportatori, piuttosto che degli automobilisti, a fronte di una coda di 5, 6, 7 chilometri, preferiscano uscire dall'autostrada e immettersi sulla strada di 16. Quindi sappiamo che comunque ci sarà un congestionamento anche delle arterie cittadine. A questo punto chiediamo che sindaci, province, ANAS o chi per loro, nel pianificare i lavori di manutenzione ordinaria delle strade, tenga conto del fatto che ci sono già dei cantieri sull'A14, altrimenti rischieremo un effetto tappo e quindi dopo come ci si fa a spostare, ci si deve iniziare a organizzare con gli elicotteri.